bella ragaz benvenuti sul mio canale io sono simo play oggi siamo di nuovo insieme per continuare la nostra carriera allenatore su fifa 22 giocata da next gen con il paris ficci credevate che io avessi interrotto la carriera invece non lo farei mai ragazzi è successo solo un piccolo inconveniente che vi spiegherò a breve comunque in questo episodio succederà di tutto e di più e da questo episodio ci sarà continuità quindi vi chiedo il massimo supporto e mi raccomando commentate e guardate tutto il video prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi inoltre voglio ricordarvi che questo video offerto dalla galactic games sd potete comprare tutto il nostro merchandise in tramite il link che vi lascio in descrizione è un ottimo modo per supportarci quindi mi raccomando se avete la possibilità fatelo eccoci qua ragazzi nel menu della nostra carriera allenatore vi spiego in due parole cosa è successo un bel giorno un paio di settimane fa ovviamente quando stavo per registrare questo episodio in pratica apro il menu di fifa faccio per aprire la carriera allenatore e il salvataggio non c'è più o meglio c'è ma non è aggiornato all'ultima volta che ho usato fifa cioè praticamente mi fa iniziare dal torneo precampionato ed è spuntata non so se anche a voi è comparsa questa scritta in fifa ma c'era una scritta all'inizio del gioco siamo a conoscenza degli eventuali problemi che ci potrebbero essere nei salvataggi della carriera allenatore ci scusiamo per il disagio mi ricordo questa cosa non ho fatto in tempo a fare lo screen perché non ho dato peso sono andato avanti poi ho aperto la carriera ho visto che non c'era il salvataggio e ho collegato ma ormai quella quell'avviso di inizio gioco non compariva più se voi volete credere mi credete perché andate esattamente così non so se è una cosa che è successa magari a pochissime persone a voi non è successa ma io vi giuro che mi è capitata questa cosa allora avendo perso tutto praticamente e quindi stavo di nuovo al torneo precampionato ho deciso di mettermi con la santa pazienza ovviamente a difficoltà minima e giocare tutte le partite che avevamo giocato finora facendo segnare esattamente i marcatori che avevano segnato nelle partite reali quindi la situazione è identica anche i marcatori sono identici come vedete garcia sta a sei gol e stava a sei gol il calciomercato anche l'ho fatto identico quasi è successo solo un inconveniente lucanez non sono riuscito a prenderlo si è buggato probabilmente il mercato in quel giocatore vi faccio vedere qui in un angolo vi lascio l'immagine voi vi ricordate che avevamo pagato 2 milioni e 6 2 milioni e 7 più il 15 20 per cento di rivendita si è buggato continuava a chiedermi 6 milioni di euro senza voler scendere e quindi ho dovuto rinunciare ovviamente perché noi avevamo massimo due milioni e mezzo assolutamente non ce lo potevamo permettere se l'altra volta ci avesse chiesto 6 milioni di euro assolutamente non potevamo comprarlo nemmeno l'altra volta proveremo a comprarlo al gennaio io ovviamente vi chiedo scusa per questo inconveniente anche se come potete intuire non è per niente colpa mia dovremo fare a meno di lucanez in questa parte di stagione dimentichiamolo fino a gennaio meglio questo che non continuare la carriera ragazzi io ho già terminato il calcio mercato per sbrigarci perché già ne abbiamo perso tanto di tempo in questa carriera non è arrivata nessuna cessione e nessun acquisto doveva arrivare lucanez ma come vi ho spiegato è successo l'inconveniente e quindi facciamo finta di non averlo mai preso quanto mi dispiace sta cosa raga quanto mi dispiace ma non ho potuto fare diversamente vabbè ci proviamo a gennaio da adesso non ci pensiamo più a lucanez non ci devo più pensare mi devo concentrare su giocare questa partita che è molto importante contro il wing camp che ottava e questa squadra ovviamente noi siamo come potete vedere al terzo posto a 13 punti vicinissimi alla vetta abbiamo giocato solo sei partite quindi ancora molto molto presto ma noi ci crediamo a ragazzi siccome in questo periodo ovviamente io mi sono allenato tantissimo giocato tanto online anche con ottimi risultati e poi vi porterò magari un po di league vi porterò qualcosa sono diventato più bravo e allora ho deciso di aumentare a leggenda quindi la carriera da adesso non sarà più a livello campione ma a livello leggenda detto questo ragazzi è tutto pronto per questo paris fc wing camp e noi andiamo sul tappeto verde immagini pre partita che sono sempre bellissime su next gen ci sono queste cose in più l'entrata in campo di one manuel garcia il nostro bomber ed è tutto pronto per l'inizio di questo paris wing camp il primo tocco è il nostro chierro prova ad avanzare aspetta il compagno va a servire l'evolante centralmente da diarra fermato da mustafa namè e adesso garcia che prova a scatenare la velocità e riesce anche a mantenere il pallone garcia grande lavoro in fase di impostazione campanini ha visto lo spazio per servire ghilavo ghili adesso è abbastanza isolato si va da garcia che anche un ottimo sinistro manuel garcia si inventa un gol dei suoi 1 a 0 paris con il suo piede debole tra virgolette perché ha un ottimo sinistro e si è andato ad inventare questo gol valido per l'1 a 0 della squadra parigina che giocatore ragazzi molto troppo che giocatore a giro il portiere prende le farfalle sotto l'incrocio 1 a 0 paris il lavoghi sbaglia tutto e poi va in pressing riesce a recuperare questo pallone il tocco per lopez la parata di basilio in calcio d'angolo in avanti da pierrot di arra ancora pierrot allarga molto bene dall'evolante affrontato da campanini torna indietro da mobris li volanta il pallone per pierrot il pareggio del guingamp disattenzione clamorosa in fase difensiva del paris il lavoghi recupera un ottimo pallone ma l'arbitro decide di porre fine al primo tempo proprio in questo istante situazione di parità 1 a 1 e ricomincia il lavoghi il tocco per molto buono per mustafa name lopez vediamo se metterà in mezzo il pallone rimane lì il colpo di testa alto di garcia non si aspettava probabilmente l'uscita del portiere ha colpito male perché era pressato ma comunque la porta era vuota ragazzi doveva fare di più finisce così 1 a 1 ma potevamo fare di più ragazzi potevamo fare di più ragazzi a quanto pare hanno pareggiato anche le squadre sopra di noi perché siamo sempre ad un punto guammano il garcia il capo cannoniere di questa league 2 con 7 gol per adesso ovviamente dobbiamo continuare a fargli fare gol altrimenti non rimarrà il capo cannoniere dobbiamo giocare contro il socio ho visto proprio che si pronuncia così sono andato a cercarlo perché avevo la curiosità e si dice socio ed è 14esimo in campionato quindi dovremmo avere una vittoria facile speriamo impegniamoci dai formazione super titolare per questa sfida perché dobbiamo fare bene ci servono i tre punti anche perché siamo ad un punto dalla vetta quindi è super importante fare bene anche se siamo solo all'ottava giornata comunque importante camminare dritti per questa strada sempre livello leggenda ragazzi in modo tale che è tutto più difficile come ho detto ho aumentato il livello da campione leggenda è tutto pronto e noi andiamo sul tappeto verde ed eccolo qua juan manuel garcia il nostro numero 10 ha segnato 4 gol nelle ultime tre partite un ruotino di marcia impressionante per il giocatore argentino saltato tutto ovviamente perché non è una partita importante iniziamo così subito garcia recuperare il pallone se ne va con un grande dribbling garcia prova ancora ad andarsene viene fermata all'ultimo ma stava facendo un'azione delle sue ambri affrontato da ninna ambri riesce andare sul sinistro il pallone in mezzo il gol mamma mia che un tiro hanno fatto un tiro hanno fatto sette minuti 33 secondi siamo sotto contro la quattordicesima in classifica così non va bene na me garcia si gira garcia garcia guan manuel garcia ci pensa lui otto gol in league 2 otto gol ragazzi otto gol in otto partite praticamente un giocatore fenomenale fenomenale guardate che ha fatto si sposta il pallone però sul primo palo figlio mio sul primo palo bello potente un bel gol quello che vuoi e che fa il portiere là e che fa non mi è mai successo una cosa del genere vi dico di solito fanno sempre miracoli i portieri vabbè buon per noi 1 a 1 alla fine succede anche nella realtà lo svarione del portiere non è irrealistico succede o se succede caspita se ne va sempre sulla fascia eh enri centralmente da calulu e dai è fuori gioco non è fuori gioco è fuori gioco dicevo ma siamo impazziti il pallone messo in mezzo diventa buona per garcia deve salvare sulla linea il loro difensore da chi te una finta ghi lavoghi garcia prova a sfuggire garcia il palo rimane lì non ci credo ragazzi non ci pensiamo non ci pensiamo altrimenti prendiamo gol occhi all'occasione ghi lavoghi ghi lavoghi due contro uno il pallone in mezzo e il gol di diachite boumar diachite la mette dentro 2 a 1 paris ficci tanto di cappello ghi lavoghi è stato altruista ragazzi non lo passavo o se sbagliavo il passaggio non lo facevo più giocare vai garcia vai a fare pure il difensore demonsi il tocco per diachite che alza questo pallone dove c'è l'opezza l'opezza prova a rientrare ottimo il pallone per ghi lavoghi fuori gioco mannaggia di quant'era sto gioco ghi lavoghi diventa buona per garcia 3 a 1 parisa 1 manuel garcia 9 in campionato chapeau a questo giocatore 9 in campionato subito subito in alto con questi gol vuole vincere la classifica marcatori l'abbiamo capito e adesso gli applausi arriveranno per one manuel garcia glielo faccio anche io un applauso bravo bravo manuel entra gori al suo posto il ragazzo 18enne che è in prestito da noi grande diachite sono tre minuti di recupero comunque abbiamo anche un'altra occasione arab prova a spingere il tocco è ottimo per lopez siamo in contropiede lopez lopez provato a sorprendere il portiere sul primo palo ci mette la mano l'estremo difensore avversario e quindi calcio d'angolo pallone messo in mezzo dallo stesso lopez vediamo se arriverà un colpo di testa ma è alto e finisce anche la partita con questa incornata di gori 3 a 1 per noi tre punti importantissimi crociamo le dita speriamo che le altre squadre hanno perso mi ricordo nemmeno quali sono le altre squadre quindi direttamente andiamo a vedere la classifica siamo in testa salutate la capolista per ora per ora siamo la capolista un punto ovviamente non chissà quanto quindi la classifica è molto stretta potrebbe ancora succedere di tutto ma ma siamo sulla buona strada ragazzi come sapete io sto aspettando il resoconto ovviamente ancora di questo mese dell'osservatore per adesso i giocatori che abbiamo nel vivaio sono questi io vi ricordo che ci sono gli obiettivi di questa carriera in descrizione uno quello di acquistare talenti sotto i 21 anni francesi che possono crescere già l'abbiamo completato adesso dobbiamo inserire entro gennaio di questa stagione due prodotti del vivaio nella squadra titolare diciamo anche nei turn over i giocatori che fanno turn over ma basta che ogni tanto li facciamo giocare stiamo aspettando il resoconto e l'osservatore per ampliare questo vivaio per adesso abbiamo lo schifo nel vivaio fatemi sapere secondo voi tra questi giocatori che adesso sto scorrendo se secondo voi dobbiamo cambiare ruolo a qualcuno perché secondo voi cambiandoli ruolo può avere possibilità di crescere vi faccio vedere anche qualche statistica ovviamente quindi mi raccomando nei commenti se potete fatemi sapere secondo voi cosa devo fare con questi giovani prodotti del vivaio che per adesso secondo me e dico secondo me non sono all'altezza beh ragazzi per questo episodio ovviamente abbiamo terminato abbiamo giocato due partite nel prossimo episodio giocheremo due o tre partite adesso vediamo anzi fatemi sapere anche questo nei commenti se preferite più episodi da due partite o magari meno episodi da tre partite perché ovviamente per registrare un episodio da tre partite ci vuole di più rispetto a un episodio di due partite e quindi potrò portarvene meno mentre con questo sistema delle due partite sicuramente potranno essere di più come ho già detto adesso ci sarà continuità almeno un episodio ogni 3-4 giorni di questa carriera sempre perché ho risolto il famoso problema di cui vi ho parlato all'inizio video io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia come sempre vi chiedo il massimo supporto andate a lasciare mi piace se vi è piaciuto questo video noi ci vediamo al prossimo contenuto un abbraccio e un saluto dal vostro prossimo plan bella ragazzi Ciao